Nella giornata di domani si riaprirà ufficialmente la partita degli sfratti. Dopo la falsa partenza di venerdì scorso in via Fontanatetta a Borgo Ferrovia, stamattina a Piazza del Popolo la Commissione Politiche Abitative presieduta da Francesca Di Iorio ha rilanciato l'azione del Comune di Avellino per ripristinare la legalità negli alloggi pubblici. Alla seduta ha partecipato anche una rappresentanza dell'OIACP che ha garantito la definizione della graduatoria ufficiale degli assegnatari entro fine maggio. Sì, allora gli sfratti riprenderanno domani, saranno effettuati due sfratti a settimana. Questo è il nostro cronoprogramma, salvo complicazioni chiaramente. Per quanto riguarda il tavolo di stamattina si è soltanto cercato di riprendere un dialogo interrotto nel tavolo dell'osservatorio permanente fatto il primo aprile. Siamo tutti concordi con le parti sociali di proseguire sulla linea degli sfratti, quindi ridare legalità e trasparenza ad un settore. Dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi il Palazzo di Città avrebbe ricucito pure lo strappo con il comandante dei vigili urbani Pietro Cucumile che venerdì scorso aveva disatteso l'ordine della giunta di procedere al primo sgombero per una presunta irregolarità nella documentazione. Le carte, spiega Di Iorio, erano a posto poiché i coniugi ottantenni che dobbiamo sgomberare oltre ad essere proprietari di un'altra abitazione avevano ricevuto pure la comunicazione in tempo utile poiché già destinatari di un'apposita sentenza del Consiglio di Stato. Ci sono stati dei chiarimenti in merito quindi si prosegue si prosegue sulla nostra politica di trasparenza quindi si prosegue, si rinizia con gli sfratti. Grazie. Grazie.